ciao un altro ordine collettivo da panda all ma questa lo farò in pezzi perché è arrivato adesso e non lo so esattamente quanto ho speso con tutto con dogana li metto dopo sul site questi sono dei pendenti bellissimi guardate bellissimi anche il colore quale mi piacciono molto ben fatti questi mi piacciono tantissimo poi altri questi li ho presi un po' grandi ma diciamo non è tanto male che li ho presi anche grandi questi sono troppo piccoli perché non ho sbagliato poi qua sono dei orecchini ho presi troppo piccoli per questi ma vedrò io come come li sistemo poi qua sono di fiume sono belli ok turchese cuorincini poi questi sono più li ho presi con la mia amica sono tre cinque sono di vetro diverse misure ok anche questi vanno bene poi questi sono perle di fiume questi devo prendere di più perché sono bellissime poi altre perle di fiume altre perle di fiume ho sbagliato ho sbagliato un po' i colori ho sbagliato un po' i colori guardate questo e questo e questo altre pietre di fiume e anche questi sempre perle di fiume se no poi poi questi li ho presi un po' grandi ma forse una volta lo saprò loro sono belle ma un po' grandi perché volevo io fare ma anche piccolini vado velocemente perché non voglio che vanno come si chiamano troppo lungo questi sono degli aghi qua perle pavè europee con rinesto non lo conosco esattamente belle mi piacciono tantissimo ok qua sono delle coccinelle un po' deludente ma perché volevo fare io vanno benissimo e questo video questi sono i cuoricini pendenti va bene qua sono molti colori sono 12 per per ciascuno bello va bene al prossimo video ciao bacione